Le immagini delle telecamere di sicurezza lo inquadrano mentre strattona una donna facendola cadere a terra nell'androne di un palazzo per rubarle la borsetta. Un 32enne originario del Marocco è stato arrestato dagli agenti del commissariato Mirafiori che lo hanno sorpreso nascosto in un armadio nell'abitazione di un vicino di casa della vittima dello scippo, un italiano di 40 anni sottoposto agli arresti domiciliari. E' stato quest'ultimo a tradire involontariamente lo scippatore aiutandolo a nascondersi per poi presentarsi alla polizia intervenuta sul luogo del delitto dopo essersi cambiato d'abito, un particolare immortalato dalle telecamere che non è sfuggito alla polizia a cui la donna si era rivolta.